La gestroemia indica una delle mie piante preferite, tra poco la vedrai nel pieno del suo splendore perché siamo in pieno estate e la gestroemia è un'esplosione di fiori e di colori. Una delle mie piante preferite perché è a bassa manutenzione, molto facile, cresce purtroppo, è che uno dei contri è che cresce molto lentamente, però le piante a crescita lenta sono anche le più longeve e le più resistenti. Quindi adesso ci stiamo avvicinando alla super mega abbondante fioritura, qua vediamo uno dei grappoli della gestroemia, un insolito colore bianco, non molto diffuso perché la varietà, il colore più diffuso è quello viola, le varie sfumature di viola sono quelle più utilizzate perché danno molto molto colore al giardino, ecco qua sono talmente abbondanti che si piegano i rami. La gestroemia è molto bella anche durante le altre stagioni, infatti in autunno tende a cambiare, virare il colore e la foglia, dal verde tende a fare una sfumatura di rossi e arancioni, fino a perdere le foglie completamente in inverno e rimane questo tronco che è quasi una scultura con la corteccia maculata tipo leucalitto, tende a sfogliarsi questa corteccia, molto molto particolare, molto interessante anche in inverno, oltre che i grappoli che rimangono appesi. Una delle mie pantie preferite perché? Perché crea questa esplosione di colori quasi come se fosse un fuoco d'artificio e soprattutto tende a farlo durante tutte le settimane estive. Bene, non ti ho detto tutto, era solo un breve video per farti vedere, ricordarti e presentarti la la gestroemia dal nome del suo scopritore e direi che ti puoi iscrivere al nostro canale per vedere altri video interessanti, spero come questo, se vuoi rimanere aggiornato, campanelli in iscrizione e visit al nostro sito www.vertecgiardini.com Ciao!